Come ti senti oggi? Fine settimana, così possiamo godercelo con gli amici e la famiglia. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è domenica 29 agosto 2021. Paolo Fox oroscopo. Oroscopo sagittario. Accarezzati dalla luna, ma a mezzo servizio. Oggi la luna funziona a mezzo servizio, tranquilla sì e anche piuttosto tenera, ma un filo annoiata. Può starci, prendersi il proprio tempo, anche a costo di sprecare l'ultimo weekend di agosto facendo qualcosa in casa, una riparazione, oppure la marmellata. I guai, piuttosto, ve lì procura il tiro planetario Sole-Mercurio-Marte in vergine allo Zenit in quadratura. La logica vi vorrebbe perfezionisti, ma l'istinto tira da tutt'altra parte, per sbrigare in fretta e furia tutto ciò a cui avete messo mano e divertirvi almeno un po', modello prima il dovere, poi il piacere. Cenezza in pizzeria con la scusa che non avete nulla di pronto, guardandovi allo specchio scoprite con soddisfazione di essere in forma perfetta. L'amore è romantico e spesso platonico, sul piano personale i partner sono degli autentici sognatori e dalla loro parte sta l'abnegazione, il romanticismo, il coinvolgimento affettivo, l'amore porta con sé i suoi frutti che potrebbero essere anche gravidanze. I singli incontreranno le persone giuste e con molta determinazione. La persona che conoscerete a breve non fa per voi, non ha intenzioni serie e cerca solo di approfittarne. Avete ancora tempo per decidere sul da farsi. Non straffate e cercate di concentrarvi di più sui vostri obiettivi. Messaggi, telefonate o posta in arrivo, notizie che vi potrebbero cogliere relativamente di sorpresa proprio oggi che sembrava una giornata monotona. Sognare un futuro migliore con la persona amata è lecito. Non fare niente per cui ciò accada e prendersela con il partner un po' meno. Oggi avrete la possibilità di conoscere persone speciali, lasciate una porta aperta per permettere a loro di conoscervi e apprezzarvi. Mettete prima di tutto il dialogo con le persone che vi circondano, non siate permalosi e non cercate significati nascosti in tutto quello che vi viene detto. In altre parole non prendetela sempre sul piano personale. Proposte in amore interessanti e convenienti, i nati di giovedì sono tra i più fortunati in amore. Amore e lavoro, un binomio che dovreste sempre scendere contemplando energie diverse per l'uno e per l'altro. Se oggi farete un po' di confusione in questo non allarmatevi, avete tutto il tempo per recuperare e riportare tutto nella giusta dimensione. Molto lavoro o studio. Non trascurare gli affari che tratti insieme con gli altri. Oggi sarà meglio rimandare gli incontri di lavoro che non ritieni importanti. In questa giornata la vostra tranquillità potrebbe essere interrotta da una chiamata improvvisa che vi catapulterà in un attimo sul posto di lavoro, anche se siete in vacanza. Se lavorerete per conto vostro senza guardare in faccia nessuno, non cederete alla tentazione di spettegolare sui colleghi. È il momento di perdonare il vostro partner per le sue parole. Purtroppo, non sempre è possibile dire le cose senza provocare ferite. Dovete ancora imparare a gestire i sentimenti e le forti emozioni che vi provocano il passato. Arriva un nuovo giorno fortunatissimo in cui Giove continua ad abitare nel segno amico dell'acquario e vi produce entusiasmi a volontà, specie se siete nati nella terza decade. Si esalta la vostra generosità, la disponibilità a venire incontro agli altri, il tipico slancio di calore umano. In famiglia riuscite a riprendervi uno spazio centrale dove diventate vera e propria anima della casa e elemento di consiglio prezioso per tutti i componenti del clan. Oggi avete voglia di recuperare il tempo perso, ora volete lasciarvi andare alla passione. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti i contatti e i nuovi accordi commerciali. La tua vita sentimentale sarà alquanto movimentata nei giorni a venire. Hai voglia di un po' più di batticuore, forse di una grande passione, e in ogni caso di soddisfare i tuoi bisogni emotivi. Tuttavia, hai paura che aprire il tuo cuore e renderti disponibile per quello che desideri veramente possa far riemergere dei ricordi dolorosi. Avete qualche remora nei confronti di una persona, ma non potrete liberarvene affidandovi a quel che vi dicono dall'esterno. Dovete avere il coraggio di affrontare a viso aperto i vostri dubbi. Sarà più immediato ed anche più efficace, quindi non mettetevi a rimandare appuntamenti, cercate invece di trovare il coraggio necessario. E dentro di voi, ma talvolta lo soffocate con giustificazioni inutili. Giornata no, ma non pigliatevela con la luna stacanovista sia per chi è di turno lavoro, sia per chi è a casa alle prese con le faccende domestiche. I veri nemici oggi sono altri, ovvero tutti gli astri in quadratura, ovvero Nettuno, il Sole, Marte e Mercurio. Ecco la ragione per cui non siete in giro a scarpinare come gli altri weekend, forse trattenuti da impegni di lavoro o di famiglia, oppure da un malessere lieve ma sufficiente a innervosirvi. Amore ed eros, azioni confuse, all'amore non ci pensate proprio, delusi forse dai comportamenti di una persona sulla quale avevate puntato tanto. L'affetto più affidabile e sempiterno è quello del vostro quattro zampe, sul suo appoggio emotivo potrete sempre contare, ricambiati, ovviamente. Il vostro amore per la natura e gli animali è praticamente illimitato. Non sarà la giornata più intrigante della vostra vita, ma potreste imbattervi in qualcosa di interessante. Se avrete pazienza riuscirete a raggiungere la gognata meta, e l'amore potrebbe aprire le sue porte. Venere, Giove, Plutone e Saturno si trovano in segni amici e vi garantiscono una sintonia erotica di grande soddisfazione con la persona che avete scelto di avere accanto. La configurazione astrale benevola inserisce un tocco di emotività che può rafforzare ancor di più l'innamoramento, contribuire a regalare quest'oggi atmosfere decisamente poetiche alla vostra relazione. Nascono per voi oggi amori dalla lunga durata. Lavoro e denaro, impegnatissimi, se siete di turno o se avete un'attività improprio nella quale credete parecchio. Più dei sentimenti oggi contano il successo professionale o la strenua difesa dei valori in cui credete, anche contro il parere di tutti. Risultati eccezionali per chi è capace di combattere e non ha paura di fatica e sconfitte, basta sapersi rialzare. La vostra giornata dovrebbe scorrere serena, all'insegna dell'armonia e della tranquillità con chi vi circonda. Tuttavia l'arrivo di un nuovo collega o di un cliente, potrebbe causarvi qualche seccatura. Decisi e impegnati a raggiungere traguardi di primo ordine, così vi vogliono Giove e Plutone in special modo se siete nati nella terza decade del vostro segno. Venere che è ospitata felicemente nella bilancia oggi vi vivifica, immette nella vostra ambizione l'elemento indispensabile dell'intuito per visualizzare meglio quelle difficoltà future che possono costellare il cammino verso il vostro successo. Bene essere, attenti alle intolleranze, fate finta di nulla perché siete ottime forchette e non amate indagare sugli ingredienti di ogni piatto. Invece dovreste, soprattutto ora che la pancia è in subbuglio e lo stomaco particolarmente delicato. Fragili anche il sistema nervoso e respiratorio, proibito fumare, dovreste saperlo ormai da decenni. C'è una scappatella nell'aria, che fa sì che il comportamento si associ al cibo e alla pigrizia. Per lei, gli amori vacanzieri e la sessualità disinibita vi hanno fatto bene, dimenticate tutti i malanni a partire dal fegato capriccioso, basta non ricominciare ad appesantirlo con mugugni e tensioni lavorative. Per lui, vacanze finite? Possono continuare nell'anima, divertendovi col fai da te o con attività a favore dell'ambiente. Colore delle emozioni, verde smeraldo. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo! Grazie. 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 Grazie.